Scolari più stretti, ecco in quella scena, chi sono gli uomini che affiancano Socrate in casa di Callia per questo impegnativo dibattito con Protagora? Sono Crizia e Alcibiade, ancora una volta, cioè i due politici più in vista di cui la città patirà l'azione fino alle estreme conseguenze nell'anno 404. La scelta che Alcibiade ha compiuto, e che imbarazza il suo maestro naturalmente, è una scelta che noi moderni comprendiamo fino ad un certo punto. O meglio, dobbiamo ambientarci nelle dinamiche dello scontro politico e sociale della città antica per capirla meglio quella scelta. La scelta di chi, essendo sconfitto dal partito avverso, uso la parola partito con tutte le sfumature necessarie e senza pretesa di modernità, chi è sconfitto e si sente sconfitto o comunque ha subito un micidiale a fondo da parte dello schieramento avverso, non soltanto reagisce ma rompe con la città, cioè ritiene di potersi contrapporre alla comunità in quanto ha un'idea personale della comunità politica. Se la comunità politica mi ha colpito è nel mio diritto reagire in quanto non vi è una patria comune nella quale riconoscersi se non fintanto che l'interesse personale è salvo. Questo rientra appunto in un'idea personale dello Stato, potremmo dire, che è caratteristica di questa mentalità della comunità arcaica. C'è un passo tucidideo famosissimo in cui Nisha, il comandante delle truppe in Sicilia, per certe ragioni così anche emotive, spiega ai soldati che la città non sono le mura, non sono gli edifici, la città sono gli uomini e appunto se gli uomini ti sono contro, tu reagisci contro coloro che escludono un personaggio più o meno rilevante dalla comunità e quindi egli è nel diritto di reagire. Se riuscirà a tornare, allora da capo la patria sarà anche sua patria. Per capire bene il comportamento durissimo che Alcibiade sta per assumere, fino a diventare il vero artefice della vittoria spartano-corinzia-siracusana contro Atene, per comprendere appieno quel suo comportamento, bisogna sempre partire da questa idea personale del rapporto con la comunità.